Quella dei lavori al Palazzo Municipale di Gioiosa Marea sembra essere una storia infinita che non manca di suscitare domande. Ultima in ordine di tempo, l'interrogazione che i consiglieri del gruppo di minoranza Obiettivo Gioiosa hanno inviato in questi giorni al sindaco Ignazio Spanò per chiedere entro quando l'amministrazione comunale intenda bandire la gara finalizzata a realizzare il secondo stralcio funzionale negli interventi di recupero ed ampliamento dell'edificio istituzionale. Per l'opera, infatti, il precedente esecutivo guidato da Edoardo Spinella, ex primo cittadino che si era adesso proprio tra i banchi dell'opposizione, aveva ottenuto dalla Regione un finanziamento pari a 1.80.000 euro. Come precisano i consiglieri di minoranza nel documento di richiesta, il progetto dei lavori era stato approvato il 29 settembre 2015 e si era classificato utilmente al 35esimo posto nella graduatoria regionale definitiva datata 7 ottobre 2016 del Bando per la promozione di interventi di recupero finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici. Il 21 gennaio di quest'anno, inoltre, l'elaborato progettuale è stato inserito nel Patto per lo sviluppo della Regione Sicilia con conseguente assegnazione al Comune lo scorso 22 maggio delle somme suddivise in tre anni 216.000 euro per il 2017, 777.600 euro per il 2018 e 86.400 euro per il 2019. A luglio il progetto è stato anche adeguato ai parametri fissati dal nuovo codice degli appalti perciò sostiene lo schieramento capeggiato da Spinella non vi è alcun ostacolo perché la procedura di gara possa essere avviata tanto più che non ci sarà alcun aggravio per le tasche dei cittadini. Il riferimento è al primo straccio degli interventi realizzato attraverso l'accensione nel 2010 da parte dell'amministrazione spanò allora in carica di un mutuo ventennale per 1.800.000 euro con il quale si è provveduto alla ristrutturazione all'adeguamento strutturale e funzionale del palazzo municipale nonché all'ampliamento della parte posteriore nella quale troveranno verosimilmente posto uffici comunali dal servizio di attività sociali e culturali. Il secondo e conclusivo stralcio dovrebbe essere invece volto a rendere l'edificio più funzionale con l'allestimento di servizi strategici per la protezione civile.